E' Paolo Virzi, il nuovo assessore nominato questa mattina dal sindaco di Mascali Luigi Messina con propria determina sindacale che subentra all'ex componente dell'Aggiunta Marino, le cui dimissioni sono state annunciate nei giorni scorsi. All'assessore prescelto, già consigliere comunale, il sindaco ha conferito le deleghe di attività agricole, agrituristica e pesca, verde pubblico, beni confiscati, servizi idrici, acquedotto.